Si è pensato ad una soluzione ponte che richiede il coinvolgimento del direttore del consorzio che avrà delle specifiche competenze per fronteggiare i problemi immediati. Nella soluzione indicata dal prefetto Annunziato Vardè è un primo barlume di speranza per i dipendenti dell'area di sviluppo industriale di potenza. Da tre settimane in ferie, in attesa di spettanza retrate, i lavoratori sono in allarme. L'ente è in via di scioglimento, gravato da debiti milionari. I sindacati molto confidano nel vertice di oggi. Alle 16.30 in prefettura, con Vardè le sigle di categoria, ci sarà l'assessore alle attività produttive, Franco Cupparo, che ha voluto la nascita di una nuova società, l'Apibas, chiamata a gestire d'ora in avanti le aree industriali lucane. Vi coinfluirà anche il consorzio di sviluppo di Matera. E a proposito di Apibas, venuta alla luce, pur a costo di forti frizioni in maggioranza, c'è una novità. Il governo non ha impugnato la legge regionale istitutiva. Per superare lo stallo c'è tuttavia bisogno di un commissario liquidatore dell'Asi di Potenza. L'attesa sta per terminare. Ancora il prefetto Vardè. Ho ricevuto assicurazioni da parte dell'assessore circa l'individuazione di una nuova figura, di un nuovo professionista da nominare.